Ciao, ciao a tutti carissimi e carissime e benvenuti su Gold Unicorn Art. Allora, come avrete visto dal titolo, oggi la domanda è farà un'azione verso di me? E sull'amore, naturalmente, andremo come sempre ad approfondire anche le sue intenzioni e poi propriamente cosa farà. Allora, incominciamo con le stese. Abbiamo la stesa numero 1, la stesa numero 2, contrassegnata dal numero 2, e la stesa numero 3. Allora, alicorno arancio, 2 e alicorno verde. Vi ricordo sempre che trovate la mia mail sotto in descrizione per consulti e che ogni video è valido nel momento in cui si guarda. Bene, vi lascio un momento di tempo e poi cominciamo subito. Fermate il video se avete bisogno di più tempo. Allora, 1, 2 e 3. Allora, togliamo la 2 e la 3 ed andiamo ad incominciare con la stesa numero 1. Allora, per la stesa numero 1, prendiamo questi tarocchi. Voglio vedere un po' tu che stai guardando. Per te che guardi, eh? Vediamo un attimo, poi ci concentriamo subito sulla persona a cui stai pensando, eh? Vediamo che cosa ci dicono le carte. Subito, stesa numero 1. In questo momento il tuo stato d'animo non è tra i più edificanti, eh? Qui si vede che sei molto giù. Tu ti aspettavi molto di più da questa persona e vedo che hai avuto già nel tempo diverse reattività a seconda dei suoi atteggiamenti, eh? Ci sono stati dei momenti in cui questa persona ti ha dimostrato effettivamente il suo interesse per te e anche in modo chiaro, eh? Però ci sono stati dei momenti che si vede subito, eh? Dalla prima carta per cui ti sei chiusa anche pur e soprattutto arrabbiata pur continuando ad avere dei sentimenti per questa persona. Hai fatto, vedo, di tutto, diciamo, per cercare di aggiustare le cose, hai provato comportamenti, però effettivamente a livello interiore, anche se spesso hai sorriso, ti sei sentita sola, un po' sola, questa persona ti ha lasciato molto nella tristezza come vedo che sei adesso, eh? A questo punto stesa 1, gruppo 1, andrei proprio a vedere le sue intenzioni a livello più profondo prima di vedere le azioni. Quindi io andrei a vedere proprio le, eh, diciamo, a livello interiore profondo, quindi il suo inconscio, la sua anima, che cosa, mh, ha intenzione di fare di te, eh, o verso di te. Ecco, quali sono le sue intenzioni, però andiamo a vederle un po' a livello animico, poi andiamo a vedere anche i fatti naturalmente, però voglio vedere da che cosa è mossa questa persona verso di te attualmente in questo momento, eh? Questa è una persona che proprio perché a causa, diciamo, delle dinamiche che si sono un po' create fra di voi, incomprensioni anche caratteriali, ha deciso di fare un passo indietro. ha ragionato molto, ha ragionato molto questa persona, non è che l'ha fatto così, eh? Rimane sempre comunque una persona che da te è molto affascinata, eh? Anzi, qui mi viene addirittura che a livello profondo ha anche un senso di colpa nei tuoi confronti. Sta cercando nelle sue pieghe più profonde una ragione profonda, quindi, di un sentire profondo che lo possa riavvicinare a te questa persona, quindi non è una persona che ti ha cancellato questa, questa è una persona che vuole comprendere a fondo se veramente vuole venire da te e quindi dichiararsi apertamente. Adesso andremo a vedere che cosa vuole dichiarare questa persona. Vuole dichiarare che con te c'è stato bene, vorrebbe, per adesso siamo ancora nelle sue intenzioni, che con te c'è stato bene, ma che capisce che deve prendere una decisione e che naturalmente ne deve parlare con te, perché non può prendere a coscienza, che non può decidere tutto da solo. Questo è stato il suo atteggiamento e sono i suoi pensieri. Tutto sommato la parte più profonda di lui sta bene, è stata bene con te. Poi ci sono stati degli screzzi anche a livello caratteriale, diciamo. Quindi lui cerca di ascoltarsi a livello profondo, questa persona, cerca di ascoltarsi profondamente, cerca di fare una pulizia delle cose che sono state dette, però cerca di lasciare da parte i ragionamenti per ascoltare veramente la sua parte più profonda sempre verso di te. Quindi alla fine le sue intenzioni sono che è giusto comunque chiarire e parlare con te per sapere se anche tu la pensi come lui a riguardo, ovvero che avete, che avrete ancora delle possibilità. Ecco, secondo lui proprio per ciò che avete vissuto tu sei stata una persona profonda che l'ha accudito anche a livello energetico in momenti difficili della sua vita, quindi ha un'alta considerazione di te. Quindi le sue intenzioni, diciamo, sono quelle comunque di comunicare con te. Adesso andremo propriamente a vedere se poi farà un'azione. Sembra di sì, visto tutti i suoi ragionamenti. Andiamo a vedere, quindi, a livello anche un po' più pratico, diciamo, che è proprio intenzionato comunque a chiarirsi con te. Questa persona ne ha bisogno per prima di chiarimenti questa persona. Comunque a livello profondo c'è un legame verso di te. A livello invece di personalità ci sono degli screzzi, delle arrabbiature. Sì, vuole fare proprio del movimento, eh? Questa persona verso di te. Qui vuole proprio, comunque sia, dirti quello che ha dentro, eh? Cioè, tutti i suoi ragionamenti che ha fatto, eh? Quindi ha proprio le intenzioni di venire da te e che abbia successo questa conversazione. Il successo per lui può essere anche se non siamo d'accordo in tutte le nostre, i nostri pensieri, nella nostra situazione, possiamo anche cambiare strada. Cioè, ognuno può prendere la sua strada. Ha un'alta considerazione di te, questa persona, perché vuole proprio sentire qual è il tuo pensiero, qual è la tua, il tuo sentire a riguardo, più che la tua opinione. Perché sa che comunque vi siete offesi, anche lui, cioè, ti ha offeso, però anche lui si sente offeso per certi, o deluso comunque, ecco, per gli ostacoli che ci sono stati fra di voi. Quindi, veramente, questa persona è una persona che vuole chiaramente per vivere meglio, e per stare, vivere meglio anche con te, eh? Quindi, secondo me, questa è una persona che appunto vuole prendere delle decisioni insieme a te, della serie, o continuiamo e la nostra storia continua, oppure ognuno va per la sua strada, eh? Questo sta pensando questa persona. Vediamo un po' ancora. Sì, perché sta male questa persona, non riesce proprio a capacitarsi di, del vostro allontanamento, ecco. Senz'altro arriva comunque con le migliori intenzioni. Secondo me il tempo non esiste, per alcuni sarà presto, per alcuni non sarà presto, però comunque sia qui dicono che le azioni, i movimenti e le parole che farà questa persona vi faranno comunque star bene entrambi, perché comunque vi chiarirete, vi chiarirete e deciderete insieme se è meglio andare avanti o no. Per molti di voi, da come vedo qui, la decisione sarà quella di andare avanti, di riniziare da capo. Per altri, secondo me, proprio voi, cioè voi che state guardando, secondo me potreste anche decidere di non accettare di andare avanti, probabilmente per le cose che vi direte. Bene, a questo punto andiamo a vedere la stesura numero due, che è proprio del numero due. Quindi ricominciamo il nostro giro per andare a vedere se questa persona farà un'azione verso di te, in amore naturalmente, andiamo a vedere un po' tu come stai, come la sta vivendo, poi andiamo a vedere le sue intenzioni più profonde, quindi a livello animico, andiamo a vederle poi le azioni vere e proprie. Ecco, qui ci sono delle carte che vogliono parlare. Tu sei molto coinvolta da questa persona, molto, molto, sei molto coinvolta da questa persona. Questa persona proprio la senti nelle tue profondità. Io devo dire che l'hai sentita subito nelle tue profondità questa persona. ci pensi veramente tanto, anzi, è quasi come se non ci fosse neanche stata una separazione fra di voi, perché tanto la senti vicina. Certo, poi, ammetti che effettivamente questa persona non ti ha trattato bene o comunque non si è comportata come tu ti aspettavi, perché alle volte sono anche molto alte le nostre aspettative, però tu sei disposta anche, qui vedo, ad accettare comunque il suo carattere o perché pensi che col tempo questo carattere, questa modalità di espressione di lui si modifichi col tempo e che diventi effettivamente poi qualcosa di più vivibile, più comprensibile, è come se tu ci mettessi sia la parte tua che la parte sua di lui o della persona a cui stai pensando. È come se tu, diciamo, accettassi proprio per un fine più grande. Anche se questo vedo che ti costa moltissimo in termini di energia, di sofferenza anche, che però l'amore e le emozioni che ti fa provare, che ti ha fatto provare questa persona, secondo te valgono la pena di aspettarla ancora. Quindi tu sei una persona ferma, che non ti muovi, perché sei convinta che il tuo cuore non si sta sbagliando, nonostante ci siano dei giorni che vedo che perdi un po' le speranze, che anche tu ti senti davvero scoraggiata o scoraggiato. Perché tu hai una visione più verso lontano, quindi tu dici potenzialmente siamo davvero affini. Quindi adesso vado a vedere proprio se è vero questo tuo pensiero. Quindi andiamo a vedere a livello di anima, quindi le sue intenzioni proprio profonde a livello animico. Così vediamo se tutto questo tuo pensiero è concorde col suo spirito, con la sua anima. Questa è uscita. E qui ti dice che alle volte non te ne sei resa conto, ma sei stata un po' sottomessa alle regole del pendolo. Cioè alle volte hai subito, diciamo, troppo. Qui mi stanno dicendo, detto molto in sintesi, ma andiamo a vedere. Voglio vedere proprio la persona a cui stai pensando, le sue intenzioni a livello animico. Questa è una persona che mi sta dicendo che è una persona risoluta, che non è un indeciso. Anzi, in entrambi queste carte mi parlano comunque di una persona che non è solita a tentennare. Cioè è una persona piuttosto bianco e nero. Quindi non so come lui o lei si stia comportando, si è comportato con me, però mi sta dicendo che questa è una persona risoluta, che crede almeno di avere le idee chiare, quindi su di voi. È una persona anche che si affida come natura, come carattere, piuttosto al destino. È una persona che dice, bene, io credo molto che esista già qualcosa di scritto, quindi se le cose non hanno funzionato, pazienza. Ecco, lo vedo una persona piuttosto determinata da questo punto di vista. Però è anche vero, qui mi dice, la tua sensazione di unità che senti, c'è stata realmente. Adesso andiamo a vedere di più. Quindi tu hai sentito veramente un'affinità profonda, che è quella che ti fa stare ad aspettare, perché pensi che davvero siete molto affini. e questa persona effettivamente ha provato questo, però attualmente è come se mi stanno dicendo questa persona a un certo punto non prendesse, cioè è una persona decisa, ma decisa perché ascolta molto il fatto, il destino, che dice, va bene, io e te ci siamo allontanati, perciò doveva andare così. Ecco la sua decisione. Cioè è una persona che non ritorna facilmente sui suoi passi, nonostante senta questa affinità, però dice se è successo doveva succedere. Quindi è una persona un po' fatalista questa. Vedo che si affida molto a quello che è successo, ai fatti che sono accaduti. come dire, dovevano accadere. Ecco, quindi non è una persona che si ascolta in profondità. Pensa che voi due insieme siete stati benissimo e questo anche lui o lei ha provato queste sensazioni, ma nello stesso tempo questa è una persona che tende naturalmente a tagliare, come si dice, i rami secchi. Quindi questa è una persona che dice non ha funzionato, adesso sta dicendo questo. tutto sommato pensa anche che il vostro fosse stato un rapporto di bisogno, anche di dipendenza. Questo è il pensiero, diciamo, di lui. Quindi questa persona effettivamente tanto bene, non sta come spiega anche bene questa immagine, però dice è inutile rincorrere un sogno. Ecco, è stato un sogno. Ecco, quindi capisco che voi ogni tanto andate in crisi perché dite, ma come? C'era così tanta affinità e improvvisamente questa affinità è diventata un silenzio, no? Naturalmente c'è stata una causa per ognuno di voi che sta guardando, sarà stata una causa diversa, no? Comunque la causa potrebbe essere una dinamica, una discussione, qualcosa che si è intromesso fra di voi. Adesso qui stiamo guardando a livello profondo l'atteggiamento di questa persona. Quindi questa persona riconosce, come vi ho già detto, che tra voi c'è stato veramente qualcosa di profondo, che è quello che voi sentite, però è anche una persona che non gli piace ritornare sui suoi passi perché crede appunto molto nel destino, diciamo. Andiamo a vedere un po' di più. e poi andremo a vedere se farà delle azioni. Andiamo a vedere un po' di più. beh, questa persona è piuttosto come dicevo, decisa, ma anche un po' dura con se stessa. voglio dire, è una persona che non si concede delle nuove possibilità, questo in generale. Pensa appunto che si deve far forza, questa persona pensa che si deve far forza per non cedere a qualcosa che non l'ha fatto stare bene. come anche queste dicono veramente tu eri e sei ancora nel cuore di questa persona, però è anche vero che c'è stato un po' una ritirata e c'è stato qualcosa che di non favorevole. Forse per molti di voi questa persona non è completamente libera, ha frequentato nel frattempo altre persone, ecco, è una persona che vuole lasciare, vi dico la verità, un po' le cose così, nonostante tutto, perché mi continuano a venire carte che mi dicono che questa persona pensa avrò una nuova strada o almeno per adesso perché le carte anche hanno un tempo anche negli interattivi, è come dire, questa persona adesso fa questo ragionamento, quindi è una persona che forse con la vostra costanza nel tempo cambierà idea, però per adesso questa è una persona che vuole rimanere così, come dire, accetto il destino, ecco, sì, è stato bello, è una persona che mi ha colpito il cuore profondamente, effettivamente siamo stati bene, però ormai è andata così, quindi andiamo un po' a vedere se farà delle azioni proprie, perché qui vedo che effettivamente subito almeno azioni non ne fa, sta molto diciamo con se stesso questa persona, ci pensa, però, e se facessi un'azione e se facessi un'azione come starei poi? Ha paura di stare di nuovo come prima, quindi questa persona dice lasciamo passare ancora un po' di tempo, perché voglio capire veramente se faccio l'azione io voglio stare bene, non voglio portarmi pesi, non voglio stare male, non voglio far stare male, quindi farò l'azione solo quando avrò l'idea o l'intuizione chiara che arriva dalle mie profondità che siamo veramente affini, quindi secondo me un po' di speranza c'è dalle ultime carte che escono questa persona, tant'è non vi ha cancellato, sta solo aspettando che gli arrivi della chiarezza, della chiarezza sul continuare con voi o no, sul cercarvi o no, adesso è ancora nella fase meditativa dove dice lasciamo stare per adesso, poi però secondo me non starà completamente fermo, vorrà avere per se stesso delle risposte più chiare, io vedo però che adesso questa persona è più in una fase di pensiero, però è una persona che se dovesse decidere poi come vedo che riflette molto di venire da voi lo farà in modo chiaro, vi darà soddisfazione, ecco, però io vedo adesso tutto fermo per adesso, per le ragioni che la stesa vi ha detto, comunque questa è una persona direi piuttosto affidabile che nel momento in cui decide di fare proprio l'azione la fa convintamente e chiaramente, ecco. ecco stesa due, andiamo alla stesa numero tre per chi ha scelto l'alicorno verde e ricominciamo il nostro giro che è in amore farà un'azione verso di me quindi anche per voi andremo a vedere come state come è un po' la situazione le sue intenzioni più profonde a livello animico e le azioni vere e proprie cioè cosa farà siete molto inquieti 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 voi in questo momento sentite delle cose dal profondo che vi sorgono fate dei sogni anche vedo avete paura avete tanta paura che non torni questa persona perché pensate tanto vedo che siete molto molto nel pensiero mentale voi avete timore ci sono dei momenti che dite ma forse ormai è meglio chiudere vedo che siete un po' in questa fase voi avete razionalizzato avete soppesato avete messo un po' sulla bilancia tutto quello che avete vissuto con questa persona e soprattutto anche il vostro malessere quindi a un certo punto vi vedo che vostro malgrado siete anche disponibili ad accettare che questo è un momento di rottura anche se ci avete creduto moltissimo a questa persona avete amato però adesso siete nella fase un po' un po' giù diciamo un po' down lo dicono un po' tutte le carte quindi va bene avete amato grazie che avete incontrato questa persona che vi ha dato la possibilità di amarlo di essere amate però siete un po' razionali e pragmatiche voi in questo momento andiamo un po' a vedere le sue intenzioni profonde a livello animico però andiamo a vederlo a livello di inconscio profondo vediamo un po' se i vostri pensieri sono effettivamente dei pensieri che hanno ragione di essere oppure invece se forse siete troppo nella testa e state ragionando troppo e avete perso voi un po' il sentire andiamo a vedere di più quindi su le sue profondità della persona a cui state pensando questa persona non è così lontana da voi non mi piace dare speranza però non è così lontana da voi come voi adesso avete razionalizzato anzi questa è una persona che ha sentito molta affinità con voi molta uguaglianza anche che si è trovata proprio bene si è trovata in affinità con voi diciamo che voi a un certo punto voi due diciamo vi siete proprio guardati uno nell'altro uno nell'altro vi siete trovati veramente simili forse siete tutte e due troppo nella testa ragionate troppo ecco però io vedo che questa persona comunque vi pensa e spera questa persona invece che qualcosa accada anche se vedo che in questo momento è pigra questa persona sul fare azioni cioè una persona che si è un po' rintanata è un po' accucciata su se stesso ed è un po' pessimista come voi siete tutte e due un po' pessimisti questa è proprio la carta del pessimismo quindi questa persona vorrebbe che tutto ritornasse nella parte bella che avete vissuto però vedo che anche visto che siete molto simili cioè uno specchio voi siete un po' disincantate ma lui anche quindi vi mandate un po' questa energia un po' pigra devo dire no? vediamo qui esce proprio l'anima ma invece questo vostro incontro ha avuto un senso per portarvi un equilibrio più profondo questa è proprio la carta dell'equilibrio con la carta dell'anima quindi queste carte in generale mi dicono non ascoltare la testa tutte e due mi verrebbe da dirlo no? cioè non ascoltate tanto la testa i ragionamenti lasciatevi andare perché l'anima vi sta chiamando la parte più profonda di voi no? qui ora voi avete vi siete specchiati io vedo in un atteggiamento un po' simile no? cioè probabilmente siete finiti un po' in un vicolo cieco voi due no? uno ha detto una cosa l'altro ha detto un'altra uno ha chiuso la porta e l'altro l'ha chiuso anche quindi proprio uno specchio no? vi siete fatti quindi qui dicono che smettendo di ragionare le porte un po' si apriranno da sole poi no? cioè non pensate mi viene da dire non pensate proprio cioè in questo momento perché mi ha detto che io gli ho detto che non togliete il pensiero state in silenzio almeno su questa relazione pensate ad altro perché almeno voi se smettete di pensare come state pensando cioè in modo molto razionale l'energia incomincia a muoversi qui l'energia è completamente stagnante andiamo un po' a vedere di più sì qui mi dice abbiate state calmi proprio con la testa non pensate avete già pensato troppo qui allora se adesso passiamo alle azioni però voglio dire che qui mi dicono che se voi smettete di pensare aiutate anche la persona di vostro interesse perché i pensieri vanno oltre lo spazio e il tempo quindi i pensieri che voi fate e gli arrivano e quindi è come se voi dialogaste a un'apparente distanza dialogate con le vostre menti qui dicono invece smettete almeno voi di dialogare a livello interiore naturalmente mi ha detto ma fatto farà non farà no cioè proprio pensate ad altro perché qui arriva il sollievo quindi come vi dicevo ci sarebbe se voi volete un'apertura e anche bella cioè è come se improvvisamente smettendo di pensare arrivasse una luce forte mi viene questa metafora per voi che spalanca la porta chiusa perché in fondo voi due siete talmente simili che lottate con voi stessi ognuno a casa sua invece qui avete tanta ricchezza da darvi vedete avete tanta ricchezza ancora da darvi io non non la vedo così finita come la vedete finita voi questa storia però secondo me siete voi che in qualche modo dovete cambiare l'energia non dico fare azioni ma cambiare l'energia per cambiare l'energia e quindi il nostro pensiero abitudinario cioè voi è un po' che pensate un po' la stessa cosa ci vuole molto coraggio qui però il coraggio spezza le catene bisogna pensare delle cose diverse per spezzare delle catene perché voi siete come due specchi come ho detto quindi siete due vasi comunicanti quindi spezzate queste catene di pensiero e vedrete che a lui gli arrivano subito tant'è vero che lui sentirebbe subito il vostro cambiamento e quindi il vostro sentimento diciamo vediamo le azioni vere e proprie queste sono troppe allora bellissima notizia quindi da una stesa che è partita tutta ferma chiusa storia chiusa qui viene che però sempre se voi spezzate queste catene qualcuno le deve spezzare perché vi ripeto siete molto simili nei pensieri voi siete come vi dico un po' pessimisti se voi incominciate invece a cambiare questi pensieri come la stesa vi suggerisce secondo me questa persona lo sente e anche abbastanza spontaneamente viene verso di voi vedete con un regalo quindi qui mi viene da dire proprio c'è una sorpresa inaspettata qui c'è proprio una sorpresa inaspettata confermata di nuovo dal movimento qualcosa di bello che non vi aspettate è proprio come se tutto quello di negativo mi viene da dire che avete pensato fino adesso si trasformasse sempre però se voi cambiate la vostra visione diciamo su questa persona non vedetela più come una persona o negativa che non ha fatto cioè cercate di guardare avanti perché se no rimanete diciamo in questo tormento no allora in poche parole qui mi stanno dicendo mi stanno dando due risposte allora chi riuscirà a fare questo cambiamento se lo vedrà arrivare o se la vedrà arrivare davanti chi invece non riuscirà a a fare questo cambiamento che deve essere netto tangibile rimarrà ancora per un po' in questa situazione quindi io direi che vi aspettano non vi dico di fare azioni voi vi dico di cambiare un po' quello che vi ha detto tutta la stesa se mai ve la riascoltate allora quindi comunque diciamo che la maggior parte di voi ho preso ancora una carta secondo me sceglierà appunto di svegliarsi mi viene da dire improvvisamente da questo assoppimento da questi pensieri sempre ripetitivi un pochino ossessivi perché qui la conclusione è che voi qui continuo nella metafora manderete questa colomba bianca a livello energetico con un grande sorriso è questo l'atteggiamento che vi viene chiesto no si sorridente mandagli questa energia bellissima e vedrai che anche lui o lei la persona a cui stai pensando gli arriverà questa notizia quindi questa tua vibrazione questa energia e quindi si farà sentire a sorpresa a questa persona in un modo bello che non vi aspettate bene carissimi io vi ringrazio e dell'ascolto e tantissima luce buon lavoro a tutti ciao ciao